Ancora un bilancio positivo che segue quello degli anni precedenti, in misura anche maggiore di utili rispetto a quello degli anni precedenti, ma soprattutto una tendenza di un asset importante alla società Pescara Gas, che è un po' il fiorello occhiello del Comune di Pescara. E non tanto per gli utili economici che realizza, ma soprattutto per le utilità nei confronti della collettività. Al di là del bilancio, cosa possiamo dire per quello che è stato fatto e per quello che sarà il futuro di Pescara Gas? Pescara Gas è quella società che oltre a produrre utili, che è una cosa piacevole e interessante, produce una serie di utilità. Anche quest'anno, per esempio, oltre mille utenti hanno avuto l'allaccio alla rete gas a titolo completamente gratuito, una novità nel panorama, credo, non solo nazionale. In più, per quanto riguarda il ramo della pubblica illuminazione, abbiamo una implementazione dei pali della pubblica illuminazione di circa il 15% in più e più l'ammodernamento di quasi tutto l'impianto esistente. Quindi una serie di iniziative di utilità, di rinnovamento, di prospettive nuove che Pescara Gas porta avanti ormai dalla sua nascita. E per questo rappresenta un fiore all'occhiello, un asset importante per la città di Pescara, non solo in termini di utili, ma proprio di innovazione per quanto riguarda le strutture che gestisce.